Procedono anche a giugno gli appuntamenti con i martedì letterari, rassegna sponsorizzata e organizzata dall'Associazione Rinascita dei Commercianti di Battipaia, presieduta da Lucia Ferraioli. Disegnatori, fumettisti, sceneggiatori e giovanissimi musicisti saranno tra i protagonisti di una mostra visitabile da oggi, martedì 5 giugno, fino a venerdì 8 giugno, dalle 9 alle 13 e dalle 16 e 30 alle 20. I disegnatori interagiranno con il pubblico, illustrando e spiegando in diretta come nasce un fumetto. Il gruppo Amici della Biblioteca allestirà l'esposizione nelle sale della Scuola Edmondo di Amicis, laboratorio di sogni e contenitore di idee in Piazza Mendola a Battipaia.